eh 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 qua c'è lo scontro della vita e invece tuffo ho fatto un casino ho fatto un casino un casino ho fatto buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo tornati su smite questo bellissimo gioco alla quale non sto dicando abbastanza tempo quanto dovrei in realtà perché infatti se potete vedere da livello sono ancora a livello 6 ma sti cazzi noi andiamo a fare un meraviglioso 5 contro 5 se lo trovo non è l'arena e con questa perché l'altra volta abbiamo fatto l'arena e invece questa volta andremo a cambiare facciamo 5 contro 5 normale ah chiedo scusa per l'altra volta un'altra volta l'ho scritto anche sotto un commento ragazzo che mi ha commentato per le stronzate sicuramente che ho detto perché essendo proprio neofita di questo gioco sicuramente non lo so qualcuno di voi magari esperto sentendo qualche cazzata che ho detto non lo so se si è strappato i capelli li ha bruciati non lo so è un po' che non so quando sento qualcuno che dice delle stronzate atomiche su world of warcraft per esempio e non lo so mi viene da lacrimare sangue quindi avevo perso anche il reward vaffanculo è arrivato tipo un pezzo avanti ok siamo direttamente in partita io l'altra volta ho provato Thor e mi è piaciuto particolarmente perché era veramente cazzuto ma mi raccomando seguite il canale questi giorni perché ci sono delle piccole novità non tanto piccole però comunque farò una collaborazione con un ragazzo su lol e niente non vi dico altro non vi spoilerò niente e guardate il canale appunto obbligato allora sulle composizioni dei team se volete mi potete scrivere non so qualche cosa qualche consiglio che posso applicare mentre faccio le partite perché magari che ne so vai bot con questo personaggio compra questo personaggio inizio perché è facile da usare per iniziare va bene compra questi item non quest'altri qualsiasi consiglio io lo accetto sempre perché appunto come avevo detto sono abbastanza neofita sotto questo punto di vista oh ok siamo andati in questo spettacolare spettacolo come sapete che vi dico non gioco smiteable 2-4 giorni perché adesso mi sto infognando overwatch no ma entrare in una neralda così adesso un po' diversa oh mi sta piacendo un sacco adesso ah ci ho comprato subito questi item e queste pozioni cioè io tengo come sapete l'auto items e l'auto schifo lì perché non voglio fare stronzate ancora più grosse di quelle che non fa già questa cosa però giuro giuro che per i prossimi video mi informo e cerco le build per esempio anche su internet se c'è qualche sito buono tipo che ne so tipo pro build per lol se c'è un alias per smite ditemelo così lo guardo e controllo lì in modo che non faccio cagate altro pg mpg è questo qua thanatos questo che ci stiamo prendendo schiaffi neri che è praticamente un assassin è quello che ci ho fatto il primo video tra l'altro è in viaggio particolarmente perché fa un botto di danni e non so aiutiamo il tizio che credo sia il jungler praticamente devo andare in lane e presumo io stia solo non lo so penso che si dai che arrivo nei minion andiamo vediamo chi ci abbiamo contro ah ci abbiamo un altro torre di là un altro thanatos un altro ra un altro cazzo ok il porco lì quello che c'è la faccia da porco sta mid noi ci abbiamo proprio il mio liscio merda il mio caro amico thanatos dovrei lastittare giusto? coglione ti ammazzo le coglione ti prendo ammanate fai eccetto ho rischiato eh però che cazzo che cazzo oh no 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 sei stronzo sei stronzo stronzo questo non era aspettato dovete stare sempre a cazzo immenso vedete? non ho mollato niente lì però mi sono banato in faccia costantemente non mi sono fermato un centimetro mi ho spaccato la testa io non volevo riprendere l'ulti perché mi fa volare in testa le persone andiamo a aiutare la situation qua qua c'è un po' di folla andiamo un po' a sfaldire questa folla va arrivo zio arrivo 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 mori mori puttana non lo chiapperò mai oh ciao tu stai scherzando con il fuoco mi sembra qui il cazzo io sto scherzando con il fuoco ma quel altro coglione è morto dai porcottini come cazzo ho fatto a morire in due secondi quell'imbecillo ma perché non vi faccio i cazzi miei che sono nella mia lane eh perché ok continuiamo in lane e stiamo qua visto che questo stronzo sta già al 5 quindi mi spacca la testa dai l'ho intercettato dai 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 io qui ci ammazza tutte e due orca puttana ah se tu ha due i coglioni ok che se ti ulta in faccia ti spacca tutto allora visto che ho 500 miliardi di pozioni converrebbe usarle mazzalo gg come cazzo si tolgono questi maledetti messaggi di tutorial sono odiosi ok proviamo a pushare un pelino va mi metto sempre così in modo da avere la situazione intorno più o meno sotto controllo ok i miei minion sono finiti mi nevo dei coglioni a questo punto oh push ancora si no no push ancora ok la sta arrivando il bastardo quindi sapete che faccio ma lontano e vado a voltare in mezzo visto che vedo un sacco di casino là ho detto una cagata perché stanno all'altra parte del mondo e con la mia ultima non ci arrivo ah ah chi c'è qui dietro oh no ragazzi c'è il mio compagno di team che sta arando il chiappe ma io se lo stito quando 25 qua missa come sei già missa mi sento molto il top laner della situazione su lol capito sta per cazzi i suoi top non si caga nessuno devo buttare giù assolutamente questa torre in modo che dopo posso andare a gangare altre lane ok e questa se n'è andata vado 500 game ma io l'avevo già buttata giù una torre l'avevo fatto un 5 contro 5 ok proporrei un back facile poi prendo gli item e vado ok io farei una cosa molto tattica tipo dal muretto qua vediamo se ci arrivo spero di si oh ci arrivo surprise madafaka vieni un po' qua tacchiappo dando sa merda tacchiappo 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 c'ho i buzz tacchiappo tacchiappo bene bene questo gank è andato bene dai ci prendiamo anche sta torre forse cazzo è ultato quell'imbecille ok qui dando la torre quando la prendiamo vado a gankare da dietro quello che sta in mid e anche abbastanza velocemente direi a parte che mi sarei nemmeno c'hanno bisogno perché c'è sta quello che oh la ninja non la ninja dove cazzo vai dai te la lascio zio te la lascio prendila prendila ce l'hai affanculo la prendo io aspettate aspettate vi faccio la sorpresina qui ho sbagliato adesso muoro pure andate dai coglioni oh fuck qualcuno ha già sprecato l'ulti però vabbè sono morto lo stesso vaffanculo la vita oh vedo che c'è un po' di rissa bot e direi di buttarci a capo fitto però sono tre e noi siamo da soli si da soli perché l'altro coglione è morto quindi ci schiaffiamo sotto torre e aspettiamo rinforzi sperando di non crepare dai vati però questo imbecille non c'ha mano quindi posso andare un po' a cazzo immenso e lo zio che muori l'abbiamo preso in culo proprio per via retta e dai allora dai no c'è l'alberello vai alberello te nessuno no non sono un cazzo muoio non sono un cazzo oh 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 arriva arriva l'angelo della morte qui che ovviamente si fionderà su di me ma come cazzo ti sbagli come cazzo ti sbagli l'unico coglione con uno di vita ovviamente è ovvio che si spara su di me attenzioni teamfight la vita Thorulta cioè l'ulti di Poseidon credo si a posto Thor ha ammazzato qualcuno Tannathus ha ammazzato qualcuno Thor ha ammazzato qualcun altro e abbiamo perso il teamfight GG a noi siamo fortissimi bello che la mia testera mi ricorda che sono morto lampeggiando di grigio meraviglioso grazie testera sempre a tirarmi sul morale a questo punto sono solo contro 4 proporrei di non fare un cazzo fino a che non arrivano i miei alleati gli faccio gli faccio il backdoor con l'ulti vai 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 oh flashbang è volata una flashbang di code brutto tamburello grasso vieni qui dai che abbiamo poggiato il pene in faccia su vai 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 questo è buono questo è buono non ci sono arrivato si ci sono arrivato fortuna questo grassone che si è suicidato ezz che poi effettivamente Thor non l'ho inquadrato benissimo perché cioè si fa danno però secondo me potrebbe essere classificato come un mezzo tank un off tank non so se per chi lo conosce tipo Olaf di lol capito che fa danno però può essere anche tank capito non lo so mi da questa impressione dopo forse sbaglio però a occhio anche se questa posizione riconosco che è un po' rischiosa però adesso faccio un sacco più danni e pusho più velocemente quindi questa torre me la porto a casa e come easy io come faccio i più danni scommetti scommetti pagliaccio sliberato adesso muoio me ne frega un cazzo lo faccio dai macello ma caricato ma caricato fa sta cosa madonna l'abbiamo l'abbiamo penetrati da tutte le direzioni perché la torre su di me perché la torre su di me perché la torre su di me eh 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 qua c'è lo scontro della vita e mi ci tuffo ho fatto un casino ho fatto un casino un casino ho fatto mamma mia ma che fai? che fai mattarella? ok sto cercando praticamente di buttare su questa torre ma molto probabilmente adesso morirò perché mi hanno visto tutti o forse no beh sì torre sta arrivando eh non si vedono più nessuno mmm rischio setto andare avanti eh no no io pusho loro difendono dai io pusho pusho veloci 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 forse ce la faccio a buttarlo giù forse ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce l'ho fatta vai tanga tu tanga tu vai 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 tanga niente e qui la va mezzo butto le testa e muoio ovviamente non lo buttiamo giù il gigante non lo buttiamo giù non lo buttiamo giù non lo buttiamo giù già ammazza tutti forse non è vero non è vero ce la facciamo ce la facciamo dai 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 ragazzi 18 914 dai ok ragazzi grazie mille per la visualizzazione spero che questo video vi sia piaciuto mi pizzica il naso e noi ci vediamo come siamo nel prossimo video mi raccomando se volete al canale perché ci stanno novità questi giorni ciao a tutti ragazzi grazie a tutti